Gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di promozione all'uscita di Stornarela si affrontano la Socher Stornara e l'audace Barletta, pieno zeppo di nomi importanti e capolista del campionato. All'andata 2-1 per la Socher Stornara con doppietta di Panelli, direzione di gara affidata al signor Cacciapaglia della sezione di Bari, assistenti Innamorato e Magaletti della stessa sezione arbitrale. Calcio d'avvio per la formazione bianco-rossa, la formazione ospite ma a rendersi pericosa è subito la formazione di Mister Maffucci con questo colpo di testa di Milella, pallone sul fondo, prova a reagire al dodicesimo Pozzo Zengaro con la conclusione della distanza che termina sul fondo. Il calcio di posizione di Vicedomini per la testa di Telera, facile tra le braccia di Soto, poi ancora Martinez per la formazione ospite al 24esimo, pallone ancora sul fondo. Ci riprova Martinez un minuto più tardi con questa conclusione con il destro, risponde presente Soto e allontana la difesa stornarese. Ancora sfrecola per la conclusione dell'audace Barletta con il pallone che termina sul fondo. Al 35esimo ci prova anche Mazzilli con questa bordata dalla distanza, pallone alto. 36esimo minuto, Milella per Vicedomini con il pallone calciato dal centrocampista che finisce sul fondo. Ancora l'audace Barletta sempre con Vicedomini su calcio di posizione con la risposta di Soto. Ci prova sul fine di primo tempo Pozzo Zengaro con la grande risposta di Cristallo che devia in corner. La prima frazione termina senza reti. Nella ripresa al 51esimo minuto la prima occasione per Di Bari con la conclusione della distanza facile per Soto. Ci prova dalla distanza pugliese, risponde presente ancora Cristaldo. 53esimo minuto il pallone per Donofrio esce qui sotto e fa sua la sfera. 57esimo ci prova Pozzo Zengaro con il pallone calciato d'esterno. Il pallone si ferma sul palo vicinissimo al gol del vantaggio alla formazione della Soccer. Espulso per proteste mister Michele Schiavone in precedenza l'espulsione anche per il DS Mirio La Rossa. Ancora audace Barletta con questo cross in mezzo. Il colpo di testa di Di Bari sul fondo. 71esimo minuto ci prova dalla distanza Vicedomini. Il pallone deviato da Soto in corner. Al 73esimo ci prova anche Nacci con questo colpo di testa ancora Soto presente. 76esimo minuto con il pallone in avanti ancora per la formazione ospite con il pallone messo in mezzo. La deviazione ancora di Nacci è ancora Soto. Poi c'è questa ripartenza con Perdonò che prova a servire Pugliese. Va alla conclusione dell'attaccante numero 9. Pallone alto sulla traversa. Ancora con la Soccer con Panelli esce Salva Cristallo. Poi ancora la formazione di casa. Ottantesimo minuto con la ripartenza di Pozzo Zengaro che prova la conclusione. E beffa Cristallo per il gol del vantaggio della Soccer Stornara. Grandi applausi per il numero 10. Ancora in rete il talento stornarese. Rivediamo qui la conclusione di sinistro che porta avanti la Soccer. Prova a rispondere presente la Dacia Barletta ma qui spreca tutto con Zingrillo. Poi ancora con Totaro. Pallone dall'altra parte per Panelli. Ancora la conclusione risponde presente Cristallo. Salva l'audace. Poi calcio di punizione di Martinez. Alto sulla traversa. Tutto per tutto finale della formazione bianco-rossa che perde la partita. Vittoria della Soccer Stornara anche nella gara di ritorno che passa il turno ed elimina la capolista. Grande gioia per la formazione bianco-verde che domenica prossima sarà impegnata nell'attesissimo derby contro la Real City. E noi a prima partita abbiamo ascoltato il presidente Sebastiano Posillipo. Presidente Sebastiano Posillipo, seconda vittoria in Coppa, quarta vittoria in stagione. Avete eliminato forse la protagonista, la più attesa di questo campionato. Una grande soddisfazione direi e anche una buona prestazione da parte dei ragazzi. Sì certo, da parte nostra è una grandissima soddisfazione perché mandare fuori dalla Coppa una squadra blasonata come questa significa che noi stiamo lavorando bene. Perciò quando lavori bene arrivano pure i risultati, arrivano di conseguenza. Siete partiti con l'obiettivo della salvezza ma aver vinto contro la favorita può cambiare adesso le ambizioni? Siete a due punti dal primo posto, si può pensare anche a qualcosina in più? No, per adesso dobbiamo pensare solo a salvarci perché il campionato è lungo e le partite che abbiamo fatte solo tre, mi sembra, di campionato. Perciò c'è tanto tempo ancora e tante partite. Da adesso non si può dire e non si può fare nessun commento di come andrà a finire. Nonostante l'impegno di domenica prossima, i derby, non avete risparmiato le forze, avete schierato praticamente quasi tutti i titolari quest'oggi perché ci tenete particolarmente alla Coppa? Noi ci teniamo alla Coppa, al campionato, ci teniamo a tutti a fare belle figure. Perciò noi oggi pensavamo solo a questa squadra qua, ma d'ora in poi penseremo alla squadra che andremo a affrontare domenica prossima. Quanto è sentito il derby di domenica contro la Rassidi? Da parte nostra diciamo non tanto perché noi tiriamo avanti così una domenica dopo l'altra senza pensare ad altre cose, ci stiamo divertendo in bocca e parola. Grazie. Grazie.